Samuel Johnson Junior! È con noi il figlio del presidente! SEMI IN ARRIVO! Vedete questo orologio? Ti dà la tua posizione esatta! Andiamo! Seguitemi! E voi? Chi siete? Cosa mi hai messo addosso, signorina collo lungo? Idiota! Cercavamo di aiutarti! È guagatelo! Va tutto bene, piccolino? Dove ti fa male? Kim! Tranquillo! Kim! Lo potresti fare più tardi? Questa roccia è pesante! Analizzando l'area dell'impatto, abbiamo scoperto la presenza di organismi viventi tra i rottami. Si dice che colui che sente la voce della natura è l'unico che può salvarla. Ciao, ape! Dove stai andando? Davvero? La Terra mi ha detto che dobbiamo smettere di nutrire le bestie di fuoco. Staccate l'energia! E le bestie spariranno! A tutte le unità, prepararsi all'attacco! La Terra è in pericolo. Non lasceremo che il mondo finisca così! Ecoplanet, un pianeta da salvare. Dal 18 luglio al cinema.